Marco Morrone della Cannondale AG Cores, oggi grande vittoria alla Gran Fondo, Davide Cassani. Sì, è stata una bella gara, a me queste gare diciamo romagnole piacciono, perché hanno sempre una parte centrale molto dura e un arrivo abbastanza veloce. Però oggi l'idea era di fare corsa dura fin da subito, siamo riusciti a portar via un gruppetto fin dalla prima salita, poi via via ci siamo un po' scremati. Alla fine con Fabio siamo riusciti a fare la giusta selezione e andare via in due, perché c'era Valletta, era molto veloce e portarlo nel finale avrebbe avuto anche poco senso, perché avrebbe vinto a mani bassi. Siamo andati d'accordo, poi diciamo oggi ho fatto una bella volata e sono riuscito a vincerla. Dopo la sfortuna di settimana scorsa una bella vittoria e grazie alla squadra, grazie al pazzo che ha tirato, che era in fuga con noi. Dai, un buon inizio di stagione e speriamo di continuare così.